bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo ritornati con un altro unboxing come vedete mi sono arrivati due pacchi e ora andiamo a spacchettarlo subito partiamo da quello di sopra vedete l'ho già aperta perché sono in testa di questo spoiler jordan questi sono i calzettoni della stagione 20 21 quindi la stagione passata nessuno per un amico di dom andiamo subito a vedere come è fatto il materiale qui c'è scritto paris non si vede perché ho un buio devo dire che è ben fatto anche minimi dettagli molto morbidi qui c'è grigio con strisce nelle grigie ripetando una volta che sono morto morbidi devo fare un altro minuto di video etichetta paris taglia m perché sono l'amico qui paris stesso fatto di prima calzettoni ben fatti tessuto di ottima qualità ripeto che non sono originali ma sono repliche qui sembra grigio e nere grigio e nere bene ragazzi devo dire che con questa recensione è tutto questo li ho preso su un nuovo sito di nome gold jersey e vi lascio tutti i link in descrizione per andare ad acquistare su questo favoloso sito che da sempre coupon di benvenuto e usando il mio codice scondavete 5 euro su prossimo acquisto bene ragazzi alla prossima ricorda tutto il sito è go al jersey lascio tutti i link in descrizione buona serata ciao 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 ciao